uno non lo so attenzione ma perché non hanno preso, non ha raccolto? occhio sono qua si, sei qua non dice niente quando festa qualcosa a me ma come si vede? vai cosa? come si vede? ah no, lì c'è il sole contro il sole non ti senti strano non c'è due festivi non c'è due non c'è due non mi dire che c'è quella speriamo che tranquilli la scuola deve passare di là cosa è? E' quello, c'è, ci vuole di raffa. Può sentire? A me sembrava... Non capisco perché non lo riesco. Abbiamo un po' di verde. E' bello oggi. E' bello oggi. E' bello. E' bello oggi. E' bello oggi. c'era la pietra lì non ti ricordi qua c'è lì macchina eh, ora? non c'è più c'è dentro qua eh? qua diventa verde no, adesso non dico niente perchè? e questo cos'è? piano tanto sempre qua siamo sì, siamo sempre qua e dove andiamo? eccolo qua, Sian erba cipollina eh, ma qua passano bau bau hai visto? questo adesso si può già raccogliere buona 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 uscia profumo non conviene non conviene non conviene ma non? ma se sali di cotto è quello lì pensa che lì chi? si si ricordi quando l'hanno trovato lì il motorino interno lì 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 lì